Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi aprirò una LOL falsa E qui c'è uno squishy ma non... A te caso era solo come divanetto Questo qui è un mini pillolone Se sentite del rumore è perché parlano Però adesso comincio ad aprire Aiuto Non riesco ad aprire neanche i pilloloni falsi Lo so perché non c'è Non c'è la linea tratteggiata Già è difficile con le originali Poi con le falsa è ancora più difficile Allora faccio il... Allora cipollo Ah, taralero, tralala Cipolliamo qua e là Oh, qui non si apre Poi a che serve mettere le cerniere Se non c'è la linea tratteggiata Ecco, adesso mi aiuta Sì Aspetta che forse è qui Ecco che è pure difficile Con le originali Quindi figuratevi con le false Sì 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 Ecco Che cosa poi Aiuto che non riesco ad aprire Quindi c'è sempre l'aiuto Perché già le lol sono difficili da aprire e le vede Poi le false Queste qui sono ancora più difficili da aprire Ecco Così Ok E che è così Mi sa che ci serviva la lente oppure no Adesso apriamo il secondo strato che mi sa che qui Qui non hanno neanche disegnato le cerniere poi Neanche disegnate Mi ricordo che era un po' più semplice aprire le false E guardate qua E adesso guardate intanto come un po' il pillolone Pillolino no Pillolone Ma pillolino Come si apre Ci serve tanto aiuto per ogni strato Aspetta che si do la faccia Ecco Ok E questo qui E com'è il pillolone Pillolino E qui c'è tutto Aspetta ma Avevo visto qualcosa Della carta Ah ecco Ecco Perché non ho la lente Vabbè Proviamo a vedere Chiocciola O questo non so com'è Piramidi C'è scritto poi i codici Non si vanno a niente La checklist Perché non è della Della Ma non far vedere ancora come la lol Perché non ho ancora quella lì Della wave 2 Perché non la fanno mai mettere Ecco E intanto vi mostriamo Cosa c'è Aiuto o no? E adesso Ah ecco la lente La lente E guardate la faccia Piccolissima poi Piccola Piccolissima Poi qui Il corpicino Nooo Le orecchie da gatto Io le adoro Questa qui le metto nelle originali Punto e basta Poi qui Il vestito da sirena Anche se è del Sleepover Club Il biberon Due tipi di scarpe Guardate Due tipi Due tipi Quindi posso fare come Le fashion crash Guardate Anche se questo qui è buccato Ma non fa niente Perché sono due tipi di scarpe Guardate Questo che non ho Ce l'ho E questo qui che ce l'ho Però comunque Adesso Andiamo a mettere La testa dell'alolo E come immaginavo Il buco è troppo piccolo Quindi adesso Dobbiamo andare a prendere Le corpici E intanto tengo io E vi E parlano un po' loro Aspetta che qui c'è il portà Come si chiama il portà Capsula Io le adoro proprio Vediamo come dice Barbie Ecco E va bene Non lo diciamo E adesso mettiamo Il vestitino Che poi è da sirena Swim club E sleepover club Insieme Poi tra le scarpe Metto queste Che sono anche diverse Ma non fa niente E poi qui c'è Il cerchetto Che non gli va Però guardate È un po' È carina però Comunque Il video è finito E ciao 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 Ciao